Gioca e vinci con noi! Siamo qui con Valli, attaccante dell'Atletic Pozzo. Un rigore sbagliato, un attraverso, un gol, un assist. Un parere sulla tua prestazione e su quella della squadra? Oggi la prestazione della squadra è stata discreta. Il primo tempo è un po' così così, il secondo è che siamo entrati con una testa diversa, con una voglia maggiore di portarla a casa. Diciamo che oggi portiamo a casa i tre punti, una buona prestazione. Sulla mia diciamo che c'è meno da ridere, mi brucia un po' il rigore, però dai, ho fatto gol e alla fine abbiamo portato il risultato a casa. Ok, vuoi dedicare a qualcuno questa vittoria? Sì, al nostro capitano Leardini. Dai, Lea!